Ciao ragazzi, questo è Zoro, benvenuti tornati al mio canale oggi ho un altro video di unboxing questo video sarà sul mio nuovo Extrema Ratio questo è un paquaggio molto grande quindi sono sul luogo a fuori questo è il mio Leatherman Surge e io faccio praticamente aprire questo paquaggio con il mio Leatherman quindi... let's go ho recentemente venduto l'altro Extrema Ratio che ho comprato da Lamnia il Shartner deluxe edition perchè è stato un buon刀 ma probabilmente troppo piccolo per il mio uso che normalmente faccio e... sì, praticamente era un multiroll e... dopo alcuni anni di... acquistare vendere usare un uomo collettivo so che... non uso questo tipo di刀 abbastanza quindi il multiroll non è un tipo di刀 che uso io preferisco un刀 o un grande chopper o... piccoli come un刀 4 inch per la cittura e quindi vendiamo quindi vediamo cosa è dentro questa cappella come ora sembra molto papi ho comprato questo刀 da un altro collettivo ok vedo qualcosa di interessante all'interno questa è la cappella è molto grande quindi il pacchetto è abbastanza grande ok cerchiamo la cappella è ovviamente l'extremarazio creios uno dei più grandi extrema razzi ho chiesto questo刀 per anni praticamente quindi la cappella ha qualcosa qui ma non è troppo serio extrema razzi sembra tutto legato questo è questo questo è per la cittura la cappella è la cappella non c'è pepe probabilmente il ragazzo lo perdono normalmente l'extremarazio veniva con la pepe dentro dentro questo è la cappella praticamente sembra nuova la cappella sembra non usata praticamente è brand nuova quindi come ho detto la cappella sembra di essere brand nuova facciamo la cappella ok sembra non usata nuova nella cappella l'unico che è missing è il tipo di ma non è grande di troppo l'ultimo sembra essere l'ultimo 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 fatto da Estremarazio tutto sembra legittimale c'è anche il numero qui c'è e cercare il numero serial del cerchio e sembra che credo che questo cerchio era più pesante ma sembra una buona big chopper blade probabilmente è un buon tool sembra di essere un tipo hybrido tra un big chopper e una macchetta filippino bolo o parang style con inclinazione del cucri 11 gradi di inclinazione tra l'ultimo e sì sembra essere una buona opinion let's check real quick the handle and the tongue of the knife because why not? I want to check how the tongue is because the serial number is low on this knife which means it's one of the first one made back probably in 2015 and I want to check the thing if it's oxidated or something like death okay okay so can't the and that's the screw okay the screw okay the only thing that is missing is the other screws right there I need another okay and it's gone okay that's the other the other screws that's strange that's very strange that's very strange okay let's see if it's possible to disassemble the handle it's not going to be easy seems there is some sort of blade but it's not going to be easy to take this blade off okay now it's moving come on it's not it's not easy I thought that it would be easier to take the sheet off let's check really quick the tongue over here and let's see if it's moving okay come on yeah okay I managed to take it out so seems to be brand new no 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 nothing on the tongue no oxidation no sort of problem whatsoever the only thing that I can see is some sort of dirt in the hole over here because the screws was actually the one that was going inside here and moving on the tango on the tongue this one is probably too small for the hole and it kind of ruin all the screws but it's not that big of a deal you can change this one over here but still works perfectly fine so it's not a E' qualcosa di serio, non è molto serio. E questo era probabilmente brand new, mai disassemblato, senza il prodotto di fabbrica, e sembra di essere una buona scelta per me.